Salve a tutti ragazzi, bentornati insieme a Guerzo86, oggi andiamo a parlare di una nuova app sarà una flash review, quindi una review molto semplice, leggera ma soprattutto veloce perché? Perché quest'app si presenta da sola, è un'app targata Wondershare che già abbiamo visto in Tunes Go, un'app che ci permetteva di condividere la nostra musica di inserirla nei nostri cellulari, insomma un'applicazione a livello musicale molto importante questa volta guardiamo, anzi osserviamo insieme un'applicazione che potrebbe fare al caso vostro come ha fatto nel mio caso, non è un'applicazione gratuita, si può scaricare in versione di prova 30 giorni, sia per i nostri computer Windows, sia per i nostri Mac però è un'applicazione che dopo servirà un abbonamento perché? Perché si potranno editare i PDF in maniera davvero completa, dalla base fino addirittura a inserire immagini, impostare una password nonché anche creare da dei fogli Excel, Word, quindi piattaforma Microsoft, piattaforma Office si potranno creare uno o più PDF, insomma un'applicazione che se il vostro scopo è fare produttività lavorativa farà davvero al caso vostro. Intanto ragazzi, sigla! Allora ragazzi, Wondershare con questo PDF, con questa app legata ai PDF davvero si presenta da sola perché? Perché da una base di Office, ovvero non lo so, un documento di Excel, un documento di Word una presentazione PowerPoint, potremmo creare direttamente dei PDF potremmo condividere con i nostri colleghi, con i nostri amici ma nonché anche potremmo, che ne so, editarli, inserire immagini, creare dei testi, cambiare sfondo insomma potremmo fare davvero tutto con questa app cercavo davvero un'applicazione che mi permettesse di editare i miei PDF in maniera davvero ottimale completa ma soprattutto in maniera professionale questo, grazie a questa applicazione targata Wondershare ultimamente riesco ad editare tranquillamente i miei PDF posso, che ne so, inoltrare via mail ai miei colleghi le mie ore di lavoro che è anche una programmazione scritta, insomma posso davvero far tutto grazie a questa app è un'app che ovviamente ha un costo, ci sono vari abbonamenti annuali per più PC, più licenze insomma non ha un'applicazione e si scarica gratuitamente ragazzi però quando le app sono veramente ben fatte, quando dopo ne possiamo più fare a meno merita secondo me acquistare un'applicazione e spenderci qualche euro se che ne so, abbiamo un'azienda, abbiamo proprio la necessità di andare a creare produttività nel nostro ambito lavorativo vi lascerò tutti i link in descrizione per visualizzare al meglio tutti i dettagli di questa app ringrazio un'altra volta l'azienda Wondershare per aver sponsorizzato questo video ma soprattutto per avermi concesso la possibilità di provare anche questa loro applicazione come di consueto ragazzi ci sentiamo nei prossimi video io vi saluto e ci sentiamo nei vari social un saluto a tutti